Ma che cos'è una madre? Una che non può sbagliare mai. Ho visto gatte più materne di me. Mi hanno detto che ero depressa da prima. Ma credevo che tutte le donne avessero un istinto, me lo dicevano sempre. Invece no. Ma cosa può mai fregargliene agli altri se l'istinto ti viene oppure no? Quando hanno fatto di tutto perché tu fossi normale, come tutti loro.